Buongiorno e buon lunedì 5 luglio 2021. Siamo già a luglio, la calura continua a essere altissima, soprattutto nel mio ufficio, quindi ancora una volta in esterna. Io sono Samuel Piana e vi do il benvenuto in Land Explorer On Air, il video podcast che parla di cultura, turismo, digitale e imprese mettendo al centro il territorio. Oggi parliamo di tre cose. Un'attrazione turistica. Costruire un'attrazione turistica porta maggiore turismo? Porto maggiore turismo di qualità? Risponderemo a questa domanda. Due, che cosa vado a fare ad un convegno di antropologia? Perché è importante questo convegno di antropologia realizzato dal Museo delle Religioni Raffaele Petazzoni? E tre, perché vi invito sostanzialmente ad una nuova iniziativa organizzata in collaborazione con la Proloco di Omenia? Ma di questo ne parliamo a fine video. Iniziamo con un'attrazione turistica da sola porta maggiore turismo? E porta maggiore turismo di qualità? Allora, iniziamo ad analizzare un caso che in questi giorni sta agitando non poco un comune vicino a dove abito. Questo comune nel tempo cerca di organizzare una nuova attrazione turistica, un'attrazione di quelle nuove adrenaliniche, di quelle interessanti da un punto di vista di turismo attivo e in quest'ottica ecco che nasce l'idea di questa nuova attrazione. E in questi giorni, tra giornali e social, è scoppiata un po' la polemica su chi è il padre fondatore, ispiratore di questa attrazione. Senza mettere però l'accento su un fatto che secondo me è molto più importante. Davvero quell'attrazione turistica porterà maggiore turismo e lo porterà di maggior qualità? A questa domanda ho una risposta concreta che è già capitata anche sul nostro territorio ed è un altro comune che per anni, e continua a essere così, viene proposto come giro turistico in special modo il sabato pomeriggio. Ebbene, se andate in quel comune, il sabato pomeriggio venite direttamente assaliti dalla calca di turisti. Addirittura le guide turistiche hanno preso posizione chiedendo fortemente all'agenzia di viaggio di non proporre più quel determinato comune il sabato pomeriggio. Il risultato comunque i flussi non calano. Non calano in maniera repentina, è ovvio, perché se per anni abbiamo promosso in un certo modo una determinata destinazione, una determinata attrazione turistica, non può che essere così. E quindi ci vorrà ancora del tempo e anche grandemente del tempo, perché appunto bisogna cambiare mentalità e bisogna cambiare anche i processi di promocommercializzazione di quella destinazione turistica e di quella data attrazione turistica per riuscire ad avere un cambio di passo e quindi, per meglio dire, avere anche un abbassamento della capacità di carico e quindi una maggiore vivibilità di quella destinazione. Quindi io direi che la situazione di costruire un'attrazione turistica sperando che porti maggiore turismo e lo porti di qualità è qualcosa che va rivisto rispetto a che cosa? Alla società e alle condizioni socio-economiche di quel comune. In particolare in questo comune c'è anni e anni di economia industriale. è chiaro che un'attrazione turistica benché innovativa, benché disruptive e questo non possiamo dare assolutamente conto e in maniera corretta a chi ha avuto questa idea di rompente, dall'altra parte però va ridefinita rispetto alla situazione in cui si inserisce, quindi nel contesto. Ancora una volta parliamo di un problema non solo di sviluppo territoriale ma di marketing e comunicazione di questo, non solo della destinazione ma di tutto un territorio. 2. Cosa vado a fare a Dalbano Laziale, anzi Nemi, vicino Roma a un convegno di antropologia? Ebbene, l'esempio è calzante. Se un'attrazione turistica disruptive non è detto che porti risultati di certo invece andare a scovare i motivi più interni ad una comunità su cui sviluppare nuove leve è invece qualcosa di molto utile. Non per niente, io dico sempre, è importante sapere il perché una persona si muove prima ancora di sapere quanto spenderà o che cosa andrà a fare su quel determinato territorio. Il perché si muove è un perché antropologico, è un perché che si connette alla psicologia del turista perché magari è un oriundo di quel determinato territorio, perché lo sta studiando sotto una lente che è quella del turismo sportivo, del turismo attivo oppure del turismo culturale. Ecco che allora diventa importante conoscere il perché e questo spesso viene un po' sottovalutato. Nelle invece indagini di marketing territoriale costruite perfettamente, questo è il passaggio. E quindi cosa vado a fare a Roma? Vado a parlare di lupi. Cosa, c'entrano i lupi? C'entrano, c'entrano perché nell'area cusiana, se parliamo di antropologia, ci troviamo di fronte ovviamente al santo che scaccia i draghi, al santo che scaccia i serpenti, parliamo di San Giulio, San Giuliano. Ma è interessante notare come anche un'altra fiera particolare, un'altra belva particolare, il lupo, entra nel mondo cusiano della sociologia, dell'antropologia cusiana, in maniera sicuramente meno preponderante, ma molto presente, tanto che ad esempio a Forno si fa la messa del lupo ancora oggi durante la festività di San Valentino. Sì, il santo degli innamorati è anche il santo che protegge dai lupi. Oppure si va a vedere il bel affresco di Giorgio Bonola, che rappresenta il miracolo di San Giulio, e San Giuliano, che assoggettano la belva dopo che questa si è sbranato un bue. Ma non solo, Rassa, il comune di Rassa che ha al suo interno, proprio nello stemma, un lupo che ha nelle sue fauci un bambino in fasce e che riporta tutta una storia, una leggenda molto particolare di fondazione del comune. Insomma, andiamo ad analizzare con la lente di ingrandimento degli aspetti particolari, oppure come il comune di Omenia che viene soprannominato, l'abitante del comune di Omenia, viene soprannominato l'UF. Perché? Perché a metà del Settecento, ciò racconta bene Nino Bazzetta Vemenia, Omenia ha una disputa, in particolare con la Vallestrona, su tutta una serie di tasse che venivano pagate per avere dei servizi, in particolare della pieve madre Omenia verso le parti più periferiche della Vallestrona. Infine, vi invito già da ora ad una camminata che si chiama, intitolata Omenia Ieri-Oggi, che è organizzata in collaborazione con la Proloco di Omenia, sabato 17 luglio. Le prenotazioni passano attraverso Land Explorer, quindi attraverso la mia persona. Ci ritroveremo al Forum di Omenia e faremo una scampagnata, una piccola passeggiata al centro cittadino. Andremo a vedere il Forum di Omenia, l'Omenia industriale, arriveremo al municipio, impareremo che cos'è, che palazzo è e quante cose possono essere interessanti anche nei vicoli di Omenia, le strecce per poi andare alla collegiata di Sant'Ambrogio, vedere questa porta romana, se è davvero romano-romanica. E poi parleremo anche del Lago d'Orta e della sua importanza a livello scientifico internazionale con il famoso intervento di Leeming e quello che sta succedendo in questi mesi con il contratto di lago. Bene, ci diamo appuntamento a lunedì prossimo. Ricordatevi di mettere un like, un mi piace, di iscrivervi al canale. A lunedì prossimo!